Un albero di alloro qui in questa scuola come buon auspicio per questi giovani studenti? Sì, infatti, buon auspicio non solo ma anche come speranza per un futuro migliore. Noi crediamo che la scuola italiana faccia un buon lavoro per quanto riguarda l'insegnamento delle discipline in generale, leggere, scrivere, far di conto, ma ci chiediamo la scuola italiana insegna i ragazzi a vivere, dà un impulso affinché diventino pienamente esseri umani. Se ci guardiamo intorno mi pare che la scommessa sia fallimentare, allora bisogna puntare sin da più tenere età, tre anni, due anni, quattro anni, cinque anni, perché il popolo possa crescere poi con un senso civico, con un senso di responsabilità e di rispetto, di rispetto per se stessi innanzitutto, di rispetto per gli altri, quindi una prosocialità diffusa, e rispetto dell'ambiente. In questo contesto la scuola svolge un'ottima attività formativa dando un impulso ai nostri piccoli ragazzi nella speranza che Foggia possa crescere e migliorare.